Nel complesso monumentale di San Domenico, oggi l'udienza per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo e per l'esercizio finanziario 2022. La Corte dei Conti ha espresso parere positivo al giudizio di parificazione, confermando dunque all'assessore Mario Quaglieri il buon lavoro che aveva intrapreso il suo predecessore Guido Liris. La Regione chiude la gestione 2022 con il risultato di amministrazione e miglioramento rispetto alle gestioni precedenti, così si legge nelle relazioni dei vari magistrati. Le entrate accertate sono state in aumento rispetto al dato del 2021. La gestione dell'esercizio 2022 ha portato ad un incremento anche dello stock totale dei residui attivi. La Regione Abruzzo nel 2022 risulta in equilibrio, avendo conseguito il risultato di competenza dell'esercizio non negativo. La mancata sottoscrizione di nuovi debiti nel corso del 2022 ha consentito quindi una riduzione dello stock del debito precedentemente contratto, confermando l'andamento decrescente. La situazione debitoria della Regione al 31 dicembre 2022 prevede un indebitamento complessivo per a poco più di un milione di euro, ridotto rispetto al passato. Scandaiati tutti gli aspetti, dalla spesa per il personale a quella sanitaria, tralasciando il Covid nella relazione, si evince però che emerge un andamento in crescita del risultato negativo per tutte le aziende sanitarie. La sezione ha invitato la Regione ad attuare una gestione strutturale del sistema sanitario regionale. La Regione, in merito alla questione delle liste di attesa, ha sottolineato che c'è un piano di recupero, ma che in alcuni settori il personale risulta carente. Sul personale della sanità le unità a tempo determinato aumentano, quelli a tempo indeterminato, sono in diminuzione. Portata avanti anche un'analisi finanziaria delle società partecipate e degli enti strumentali, ma anche sui fondi europei e sul PNRR. Per i vari programmi FESRE e FSE non si sono verificati casi di irregolarità. Le criticità per la Procura regionale ci sono in tema sanitario per la mobilità interregionale, come si diceva, per le situazioni delle varie ASL. La Procura regionale della Corte dei Conti, tramite il procuratore Giacinto D'Amico, aveva chiesto al Presidente Siracusa della sezione regionale di controllo la sospensione della parifica per alcuni giudizi e di dichiarare non parificabili alcuni capitoli del rendiconto, parificando invece tutto il resto.